Carissimi fratelli e sorelle, gli atti degli apostoli dicono che la prima comunità cristiana per un certo periodo di tempo poteva vivere in pace. Molti miracoli e protici avvenivano fra il popolo per opera degli apostoli. Bastava che San Pietro passasse per la strada e i malati che venivano colpiti dalla sua ombra guarivano. La grazia del Signore sovrabbondava. Ecco, io auguro a tutti voi oggi, all'inizio di questa giornata, questa grazia, questa abbondanza di pace e questa potenza di fede che metteva la comunità cristiana di fronte alle persecuzioni nella condizione di essere vittoriosa, tanto che i capi del popolo, soprattutto tutti quelli della sette di Sant'Ucea, a cui facevano parte in gran parte i sacerdoti del Tempio, fecero arrestare gli apostoli che li portarono davanti al Sinedrio, furono questi messi in prugione, ma durante la notte un angelo del Signore va da loro e li fa uscire dalla prigione, ingiungendo loro, dicendo andate e mettetevi a predicare al popolo nel Tempio tutte queste parole di vita. La parola di Dio non viene imprigionata. E abbiamo un altro episodio, al capitolo diciassettesimo, sempre degli atti degli apostoli, quando si racconta di San Paolo che a Filippo fu imprigionato, fu stigato, eccetera, e durante la notte avvenne un terremoto, cadero le catene e San Paolo si trovava in quel momento insieme ai suoi compagni di prigionia a lodare il Signore. E questa è una grande ispirazione che ci dà appunto la scrittura oggi, la parola di Dio, di metterci davanti all'azione dello Spirito Santo. Non dobbiamo guardare la grandezza, la forza del male che ci circonda, guardiamo colui che l'ha vinto con la sua passione morte e resurrezione. E' interessante questa definizione del Vangelo che dà l'Angelo agli Apostoli. Andate e predicate al popolo tutte queste parole di vita. Perché? Perché Dio è vita. La parola di Dio è vita. Dio è vita. Gesù va a dire un giorno dei farisei che lo attaccavano. Il nostro Dio, Dio di vita, è il Dio dei vivi, non dei morti, perché tutti vivono per lui. E chiunque accoglie la parola di Dio vive. Che l'anima dell'uomo ha bisogno di vita. Noi dobbiamo riempirci l'anima, non di pensieri e preoccupazioni. Certo, dobbiamo anche guardarci attorno per vedere che cosa succede. Ma dobbiamo guardare principalmente alla parola di vita, a fare entrare le nostre anime le parole di vita. Parole di risurrezione, parole di salvezza, parole di grazia. Dio è vita. Come dice Gesù stesso, le mie parole sono spirito e vita. Vita. Nutriamoci perciò tutti i giorni di queste parole di vita. E quando prendiamo in mano la scrittura, lasciamo perdere gli altri problemi. Lasciamoci saziare da questa presenza divina che ci mette nella condizione di entrare nello spirito di pace, nella pienezza dell'amore e della vita. E nel Vangelo di oggi Gesù viene a noi dicendoci cose molto interessanti. Parlando con quel saggio Nicodemo gli dice Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non muoia, ma abbia la vita eterna. Dio non ha mandato il figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo si salvi per mezzo di lui. Gesù è questa salvezza data a noi. Gesù stesso, questo brano del Vangelo si è rivolto a Nicodemo, dice come Mosè innalzò il serpente nel deserto e chi guardava il serpente di bronzo innalzato da Mosè, veniva guarito dai morsi frenosi dei serpenti, così avviene chi guarda Gesù Cristo. Come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il figlio dell'uomo. Cioè dobbiamo fare brillare nella nostra anima la presenza di Gesù. Ecco allora, la preghiera, fratelli, non è una imposizione, è un'esigenza della nostra anima che ha bisogno dentro di sé di questo spirito di vita, di quest'amore, di questa fiamma, di questa forza che viene da Gesù, che è la parola di vita che Dio ci ha dato. Le mie parole sono spirito e vita. Sapete che avete la vita eterna, voi che avete creduto nell'unigenito figlio di Dio. Il mio corpo è vero cibo, il mio sangue è vera bevanda e nutrimento. Gesù è la vita della nostra anima. Lo Spirito Santo di Dio è la vita della nostra anima. E quindi Dio questo ci chiama. Come quindi Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il figlio dell'uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. Gesù è la vita. Quindi Dio ha tanto amato il mondo dare il suo figlio unigenito. Nel diario di Santa Faustina, Gesù parlando alla Santa, a volte si lamenta e dice cosa devo fare per gli uomini? Ho data la vita, ma neanche il sacrificio della mia vita li convince. Noi del qualcosa dobbiamo essere convinti, dal fatto che ci ha tanto amato da dare se stesso per noi fino all'ultima goccia di sangue. Ecco era la celebrazione eucaristica, la celebrazione del sacrificio di Gesù, questo amore che è stato dato e questo amore che si rinnova, non si ripete, si ravviva ogni volta che noi celebriamo, perché si fa memoria quando Gesù ha fatto in passato, della memoria viene reso presente e quindi noi ci accostiamo non a dei segni, non ci accostiamo a delle figure, dei simboli, ci accostiamo a Gesù Cristo, ci nutriamo di Lui, pane vivo, disceso dal cielo, ma questo avviene anche nella preghiera. Gesù non viene a noi con sentimenti, viene con la sua realtà, ci viene dandoci la sua vita. Dio quindi ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non muoia, ma abbia la vita eterna. E Gesù aggiunge un'altra frase molto molto interessante, fratelli. Dio non ha mandato il figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo si salvi per mezzo di Lui. Cosa significa questo? Significa che quando Dio viene a noi, viene per salvarci, ma non approva il disordine o il peccato che trova. Quindi c'è il giudizio di Dio nel riconoscere il male, ma in vista della nostra salvezza. Dio vuole sempre e solo la salvezza e allora combatte il male, come stiamo vedendo dai nostri giorni. Tanti si stanno rendendo conto di quanto male e marciume c'è nella società, di quanta falsità, quanta corruzione, come Dio nel tessuto sociale non c'è. Anche persone lontane da la fede stanno uscendo fuori con queste affermazioni. Bisogna che torniamo a Dio, abbiamo bisogno di Dio, non solo per uscire da questi momenti difficili, ma abbiamo bisogno di Dio perché l'anima ha bisogno di Lui. Ecco allora anche le prove che stiamo subendo in questi giorni. Qualcuno dice ma sono frutto dei castighi di Dio. No, Dio non viene a castigare. Dio non ha mandato il figlio nel mondo per giudicare e condannare il mondo, ma perché il mondo si salvi. Ma se c'è da correggere, la bondà vuole la correzione. Un genitore che vede un figlio fuori strada farà di tutto per richiamarlo sulla retta a via. Dice il libro dei proverbi, se non lo fa vuol dire che quello non è suo figlio o almeno non lo ama come figlio. Perché se un genitore è veramente accorto dei figli e li ama sinceramente farà di tutto per il loro bene. Così Dio sta cercando il nostro bene. E allora mi è fatto tanto piacere sentire delle persone che in questi giorni stanno ringraziando il Signore per la correzione che sta portando nella loro vita. Grazie Signore perché mi stai correggendo. Grazie Signore perché mi stai facendo vedere il male che è in me. Grazie perché lo stai rimuovendo da me. Grazie. Questo non avviene sempre, fratelli, senza sofferenza. La purificazione comporta sempre una sofferenza. Perché è morta una vita vecchia, distacca da una vita vecchia. Abbiamo visto altre volte come San Paolo definisce questo come una morte. La fede come un processo di morte. Si muore a un tipo di vita, a una vita senza Dio, una vita corrotta, disordinata. Per vivere una vita nuova è caro la rinascita. Se uno non rinasce da acqua e da spirito non può vedere il regno di Dio. E allora grazie Signore che ci stai donando la vita in abbondanza. Come ci dici tu stesso nel Vangelo di Giovanni. Sono brutto perché abbiate la vita e l'abbiate in abbondanza. Perché abbiate la gioia e la vostra gioia sia piena. Perché portiate frutto e il vostro frutto sia duraturo per sempre. Cose che durano per l'eternità. Grazie Signore. Grazie di questo amore che tu fai risaltare anche in mezzo alle prove che stiamo attraversando. Noi siamo fragili però. Di fronte alle difficoltà siamo tentati di abbatterci, di accasciarci, di scoraggiarci. Signore tu come un padre buono ci risollevi con la tua mano potente. Grazie dell'amore che ci doni. Grazie dell'abbondanza di grazia che ci concedi. E grazie Signore per queste parole di vita che ci doni. Parole che ci danno una nuova vita, la realtà dei figli di Dio. E tu Vergine Santissima che gioisci sempre quando i tuoi figli si avvicinano alla fede, quando noi ci lasciamo saziare dalle parole di vita. Donaci di fare di Gesù il pane vivo disceso dal cielo, di nutrirci continuamente di lui, della sua parola, della sua vita, della sua grazia. E aiutaci ad accoglierlo, a seguirlo, senza mai girarci indietro. E ti preghiamo Signore Gesù per quanti stanno ancora soffrendo, per quanti sono in pericolo di vita. E ti vogliamo pregare per quanti hai accolto nella pace del tuo regno. Ti vogliamo pregare anche per quanti stanno assistendo, coloro che stanno soffrendo. Tanti sono stati contagiati e tanti hanno anche perso la propria vita terrena per soccorrere i fratelli in necessità. Signore Gesù, grazie, grazie, grazie. Ti preghiamo di benedirli tutti, di sollevarli. E il loro sacrificio, Signore, aiuta tutta l'umanità a risorgere a vita nuova. A te Gesù la loda e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. E voi tutti, fratelli, siate benedetti e colmati da queste parole di vita. Amen.